salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video finalmente dopo sei mesi da quando è stato presentato cioè al ces 2017 è in arrivo il drone della autel robotic cioè il drone evo uscirà il 25 di giugno con diciamo la vendita verso i primi di luglio praticamente si accavallerà con l'uscita del parod anafi non so se è stata una strategia di marketing se è stata una casualità comunque questi due droni si accavalleranno nella loro uscita sicuramente il drone di parod cioè anafi è più nella fascia del mavic air mentre questo drone levo di autel robotic è più nella fascia del mavic pro quindi sono due fasce di prodotti un po diversi però diciamo che fa specie il fatto di uscire praticamente in contemporanea se poi aggiungiamo il fatto che verso la fine di giugno dji dovrebbe presentare un nuovo prodotto dovrebbe essere mavic pro ma forse si mormora anche che potrebbe essere uno spark 2 quindi staremo a vedere comunque sicuramente a fine di giugno dji presenterà un nuovo prodotto quindi diciamo che l'estate per i droni è un'estate molto bollente sicuramente autel quando aveva presentato molta attenzione verso di sé perché comunque era diciamo il primo drone pieghevole che sulla carta sarebbe stato meglio del mavic pro meglio intendo con delle caratteristiche in più rispetto al mavic pro però adesso quando uscirà cioè a fine giugno questo prodotto ma poi verrà presentato il mavic pro 2 sicuramente ci sarà un altro passo avanti dji quindi diciamo che i competitor in questo momento secondo me sono sempre un passo indietro nel senso che quando loro lanciano un prodotto che sulla carta è meglio di quello che c'è attualmente di dji o meglio con delle caratteristiche superiori a quello che al momento dji dji è già pronto a rilanciare un nuovo prodotto quindi sono sempre secondo me un passo indietro però sicuramente questo è un prodotto che dalle caratteristiche sulla carta è veramente veramente valido nel senso che ha sicuramente delle potenzialità enormi comunque adesso guardiamolo un attimo da vicino che comunque il 25 giugno è qua dietro l'angolo quindi per chi è interessato a acquistare un drone potrà valutare anche questo prodotto anche se però ragazzi c'è una brutta notizia nel senso che autore robotica ha deciso di non importare in europa per adesso questo prodotto quindi questo prodotto uscirà in america e in tantissimi altri stati ma non in europa quindi per chi lo vuole acquistare ovviamente lo può acquistare direttamente dal sito autore robotico o dagli store stranieri comunque in europa non sarà venduto per il momento quindi non ci sarà un assistenza europea e vi dicendo quindi non so chi sarà senti di spendere mille euro perché sarà più o meno quella la cifra adesso lo danno a 999 dollari il prezzo nel sito però dopo facciamo che sia anche meno comunque all'incirca mille euro a stare larghi spendere mille euro per acquistare un prodotto senza assistenza europea però poi non lo fa col cazzo che c'ha voglia quindi adesso guardiamo da vicino perché secondo me è un prodotto che merita di essere comunque osservato allora ragazzi questo è l'evo di autore robotiche sicuramente un prodotto affascinante anche dal punto di vista estetico secondo me è bellissimo perché ha questo diciamo muso che ricorda un po le automobili un po retro perché ha questa mascherina con questa griglia davanti questi due sensori che sembrano due fanali cioè secondo me dal punto di vista estetico è molto curato è arancione come tutti i prodotti della autore robotico ovviamente e diciamo che sicuramente ha delle caratteristiche tecniche che non sono per niente male partiamo ovviamente dalla cosa principale cioè la fotocamera che è una 4k a 60 fps quindi una fotocamera con una risoluzione veramente alta e con un frame rate di tutto rispetto perché comunque 60 fps in 4k veramente tanta roba poi è una 12 megapixel ovviamente quindi diciamo niente di stratosferico ma poi quello non è così importante che se poi quando guardiamo anche come dj ai comunque non è che abbia delle fotocamere con chissà quanti megapixel ma però se poi guardiamo la qualità delle immagini e delle foto tanto di cappello quindi quello sappiamo che non è così indispensabile poi ovviamente ci sarà la sua applicazione dedicata già disponibile su app store o google play e andiamo a guardare adesso le caratteristiche tecniche le caratteristiche tecniche di questo prodotto sono veramente eccezionali secondo me diciamo che sarebbe un ottimo in questo momento sarebbe il competitor ideale per il mavic pro di adesso confrontato al mavic pro che uscirà probabilmente sarà inferiore e quindi non so ovviamente alla funzione gps con la precisione del decollo e poi diciamo l'atterraggio nel punto in cui è partito ha una cosa secondo me interessante che è la batteria perché ha una batteria che dura veramente tanto nel senso 30 minuti di batteria che non sono per niente male è una batteria 4.300 mini ampere da 11,4 volte e diciamo che 30 minuti di volo sono veramente veramente tanti quindi sicuramente una cosa che non è niente male per questo drone anzi perché sulla carta comunque dei minuti in più rispetto al mavic pro attuale la cosa che mi ha incuriosito è il fatto che ha solo una connessione a 2,4 gigahertz cioè sia per quanto riguarda la connessione tra radiocomando e drone cioè per controllare il drone sia per quanto riguarda il ritorno video nel nostro telefono vediamo che è sempre 2,4 gigahertz quindi non ha a quanto pare il 5,8 gigahertz che secondo me se utilizzato bene 2,4 è nettamente meglio del 5,8 però poi staremo a vedere cioè a me il 5,8 non piace perché comunque è un range veramente scarso di potenza di segnale anche se riesce a portare molti più dati però se questo porta da riesce comunque 2,4 ha una potenza di segnale veramente maggiore a livello di distanza quindi loro usano solo il 2,4 non c'è il 5,8 almeno così sembra nella scheda tecnica poi un'altra cosa che ho visto che mi piace molto è la distanza vedete che la distanza arriva fino a 7 chilometri veramente tanta roba ok c'è la possibilità ovviamente fcc ce ovviamente questo sarà i 7 chilometri saranno sicuramente in fcc comunque veramente veramente tanti chilometri quindi un'altra cosa veramente a favore di questo drone una cosa che invece mi è piaciuta molto è il radiocomando perché se noi andiamo a vedere il radiocomando è molto molto bello uno perché è piccolissimo e poi ha il supporto del telefono vedete che va sopra al radiocomando che a a me piace molto di più rispetto a dji che lo tiene qua in basso comunque questo radiocomando veramente veramente piccolo vedete come sta nelle mani e la cosa interessante che ha un display quindi non è necessario per forza collegare uno smartphone perché comunque ha un piccolo display che ci fa vedere cosa sta inquadrando e con tutti i dati che servono per volare ovviamente nel display dello smartphone si hanno molti più dati perché comunque il display è più grande questo è piccolino però è veramente veramente carino e ovviamente abbiamo anche tutti questi dati simili a vedete dove c'è scritto gps mode e questi altri dati sotto che poi sono molto simili a quelli del mavic pro come sistema di display però il mavic pro ovviamente non ha poi un display a colori abbiamo sempre bisogno di collegare lo smartphone questo in realtà no però devo dire che è veramente veramente carino forse è fin troppo piccolo perché se lo guardiamo in mano veramente è piccolissimo sembra quasi un sproporzionato alle mani è veramente piccolo però devo dire molto molto bello una delle funzioni che ha ovviamente quella di seguire il soggetto quella ormai vabbè ce l'hanno quasi tutti l'importante come viene fatta quella cosa ovviamente perché seguire il soggetto e mantenerlo sempre diciamo a contatto con il drone è veramente una cosa difficile da fare soprattutto quando ci si sposta velocemente ovviamente dji è in grado di farlo vedremo se anche auto robot è stato in grado perché a tanti altri droni si lo fanno ma se solo si aumenta un po' la velocità dei movimenti viene perso il soggetto poi ovviamente è in grado di evitare gli ostacoli però sembrerebbe che il sensore li abbia solo davanti dietro no come ha invece il Mavic Air e come invece si dice che avrà il Mavic Pro 2 dove avrà i sensori probabilmente anche nei fianchi e anche sopra almeno così si mormora comunque questo dovrebbe averli solo nella parte anteriore e quindi non nella parte posteriore come invece ha anche il Mavic Air un'altra cosa interessante che ha è che i sensori comunque rilevano la forma 3D dell'oggetto a cui lui deve aggirare attorno questa è un'altra cosa che comunque se funziona è una cosa anche questa molto interessante e diciamo che tutto questo su un drone che comunque ha delle dimensioni abbastanza ridotte sembrerebbe un po' più grandino del Mavic Air però più piccolo del Mavic Pro quindi ragazzi secondo me questo drone è veramente veramente buono ovviamente ripeto non verrà importato in Europa per il momento Outer Robotics ha detto che dovrà valutare se varrà la pena importarlo anche in Europa perché comunque qua DJI in Europa è molto forte quindi non sanno se verrà importato o meno speriamo di sì perché almeno avere comunque un competitor anche in Europa per DJI è una cosa secondo me che fa bene al mercato come anche a Nafi anche se non lo considero Nafi un rivale perché comunque secondo me poi dopo con la cosa dei prezzi o meno DJI alla fine nel senso che se uno deve spendere tot soldi tra DJI e Parot probabilmente decide per DJI secondo me però è sempre un bene avere più competitor perché comunque fa migliorare i prodotti perché c'è più sviluppo nei prodotti i prezzi scendono perché comunque viene anche una concorrenza a livello di prezzi quindi fa bene però in questo caso peccato che per adesso questo drone non venga importato in Europa quindi ripeto chi lo vuole acquistare lo può acquistare direttamente dal sito Outer Robotics dovrebbe essere possibile l'acquisto già dai primi di luglio e speriamo che Outer Robotics decida di importarlo anche in Europa perché comunque acquistare un drone da 1000 euro circa perché è il prezzo se adesso noi andiamo a guardare vedete che il prezzo è di 999 dollari quindi probabilmente il prezzo sarà meno di 999 euro però poi ci sono le spese di spedizione però poi ci sono le spese doganali quindi tutte queste cose che in realtà il prezzo, boh calcoliamo il 1000 euro tanto per dire una cifra più o meno è spendere 1000 euro per un prodotto che non è venduto in Europa quindi acquistato con una garanzia fuori Europa quindi se si ha un problema o meno non si ha un'assistenza qua e questo ovviamente è un peccato per adesso ma speriamo che questo cambi quindi ragazzi preparatevi a un'estate bollente perché probabilmente a fine giugno verrà presentato anche un prodotto DJI quindi abbiamo in uscita il paro Tanafi in vendita dal primo di luglio poi uscirà questo Evo della Outel Robotic anche questo in vendita dal primo di luglio e DJI che presenta un nuovo prodotto a fine giugno quindi ragazzi l'estate dei droni si presenta un'estate veramente veramente calda come al solito ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo nei prossimi video ciao 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 ciao